Un grazie meglio a Giulia della fanart, bellissimo disegno. Se volete mandarne altre, potete mandarla alla mia pagina Facebook, link in descrizione. Ciao e benvenuto nel mondo dei Pokémon. Sei pronto ad immergerti in un mondo fantastico? Certo, e voglio essere un Totodile! In base al quiz verrà deciso la tua personalità. Sei stato scelto! Sarei una bellissima cicorita! Cosa? No, 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 aspetta! E alla prossima! No, aspetta, torna qui! Non ce la farò fino alla fine. Sono un fifone e scapperò. No, ci devo credere! Permesso accordato. Ma chi era? Sempre quel pirla di Pikachu. Venire in questa spiaggia mi rilassa sempre. La vista. Il mare. I cremi che fanno le bolle. Gente svenuta. Gente svenuta! Sveglia! Stai bene? Sì, se non urli. Oh! Pokémon sconosciuto, posso raccontarti la mia vita? No, ok. Quindi tutto inizia con... Ma... Ora ti prenderò il tesoro e ci farò dei soldi! Non so, Rick, mi sembra un falso. Lascia che chiami un esperto. Tizio random sconosciuto! Ti ho incontrato a cazzo! Vuoi unirti per sconfiggerli? Ok. Il mio sogno è quello di diventare una squadra di soccorso. Sai, aiutare gli altri. Ma anche girare il mondo alla ricerca di tesori e luoghi inesplorati. È questo il mio sogno. E lo porterò avanti, finché non l'avrò portato a realtà. Ma sei serio? Benvenuto nella gilda di Wigglytuff! Perché si chiama così? C'è? Eh? Ma sei serio? Scusa, è che scrivo così il copione perché Pikachu mi sta sul cazzo. Sì, ho capito, immaginavo. Sono subito la bomba! Effettivamente divertente! Stiamo per andare a recuperare delle mele ad un Pokémon che si fa quasi sicuramente di cocaina. Non è meraviglioso? Sai, noto una vena sarcastica quando dici ste cose. Ma no, dopo tutto sto vivendo avventure emozionanti, tipo fermare pedofili. Dai, piccolino, devi solamente infilarti in questo buchino. Fallo per me! Vi abbiamo rubato le mele ed entreremo nella vostra gilda. No, non lo farete. L'hanno fatto. Oh, cosa diavolo è stato? Un'altra visione? Dio, devo smetterla con quell'erba magica. Wow! Siamo pronti ad andare al lago Foschia dove dovremo cercare delle cose? Cose di che tipo, capo? Fatti i cazzi tuoi. Comunque sapete che esistono cose chiamate ingranaggi del tempo. Essi mantengono il mondo sano e lontano da una cosa chiamata paralisi del pianeta. Questo Pokémon di 9 Grovile è pericoloso. Ed è un pericoloso fuorilegge che li vuole rubare e riportare nel futuro. Come sai tutto questo? Vengo pure io dal futuro. Oh, onesto. Quindi sei il bravo ragazzo, giusto? Esattamente. Hai proprio un aspetto affidabile, infatti. Ciao, sono Grovile e mi serve il vostro ingranaggio. Ok, lol. Scherzetto, ti imprigioniamo. A cipigna! Bene. E ora torneremo nel futuro dove verrai giustiziato. Sìììììì! E voi con noi, lol! No! Beh, mica male questo futuro. Sì, beh, se contiamo che non vi è nulla se non pietre, Pokémon assassini che ci stanno inseguendo e... Ah! Cosa grini? Non guardo te, ma quel pixel rosa! Vedete? Qui il mondo è andato in rovina. Quando sono stati rimossi gli ingranaggi del tempo. Dialga è impazzito e io e Grovyle abbiamo fatto di tutto per fermarlo, ma... Cosa? Ma sei un maschio o una femmina? Sessista! Non posso credere che il grande Duskunar sia malvagio! Già, eppure sembrava così innocuo. Siete pronti a tornare nel passato in un mondo migliore di felicità? Andiamo! Ehi, siamo tornati! E dai, piccolino, giochiamo al dottor... Oh... Oh... Ehm... Stiamo per affrontare Dialga. Ma non ti senti spaventato? No. Perché ho te. Sarebbe brutto se una volta sconfito Dialga e salvato il mondo, te scomparissi per sempre. Oh! Ehm... Già, sarebbe proprio brutto. Qualche minuto prima. Teo, una volta sconfito Dialga e salvato il mondo, scomparirai per sempre. Oh no, Azurile in preda un incubo! Dobbiamo salvarlo, ma come? Chi si occupa dei sogni tra i pochi... Oh no... Siamo nell'incubo di Azurile? Sì, spaventoso. Non vedo un cazzo! Sei tu la colpa di tutto ciò. Devi sapere che, siccome sei di un futuro inesistente, stai creando problemi al mondo. Tch, tanto per cambiare, direi. Ma sì, sveglieremo Azurile. Dopotutto tu sei un Pokémon affidabile e a noi non rapiranno accusandoci della distruzione del pianeta. 12 secondi dopo... Ma stai zitto te, perché hai dovuto parlare? Avete finito di rovinare i miei piani. Addio! E invece no! Tutto è bene, ciò che finisce... Ma è morto! No, ma ha perso la memoria. Ok, ma è vivo e ha ancora i poteri. Il mondo è salvo. Ma ha i poteri. E nulla ci può fermare. Io ti vado a giocare a Nintendox, addio. Abbiamo fatto molte cose. Abbiamo salvato il mondo. Abbiamo salvato un mondo futuro, anche. Da un Pokémon leggendario impazzito. Abbiamo salvato poi di nuovo il presente. Da un Pokémon che credeva che fossimo noi i responsabili. Ma la vera domanda è... Perché cazzo ce l'hanno sempre con noi Pokémon leggendari? Rimanete aggiornati sui miei video iscrivendovi alla pagina Facebook. Poregozzettazzawaltrughe, la nuova pagina Facebook. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi anche se volete al mio canale secondario dove caricherò gameplay e robe del genere. E soprattutto anche su Instagram, dove posto ogni tanto delle foto. Inoltre voglio ricordarvi che se per caso volete aggiungermi su Facebook, ho un account apposita proprio per questo. Il link è in descrizione.